Bella gente e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft 1.17 Oggi ragazzi siamo nello snapshot 20v49A Vi voglio mostrare per bene effettivamente come funziona lo Skull Sensor Il blocco che è dietro di me posizionato in un particolar modo molto molto ampio Vi terrei a ringraziare il buon Chiave che mi ha gentilmente costruito questo piccolo set Per registrare il video e ha deciso di firmarsi in questo modo qua Con la collaborazione ovviamente del villager Iniziamo dalle basi dicendo che lo Skull Sensor è un blocco che è capace di sentire il tuo rumore Il movimento, la vibrazione presente in Minecraft E di creare a sua volta da questa piccola vibrazione un impulso di redstone Infatti ragazzi possiamo notare questa cosa se qua sotto mettiamo un sacco di Skull Sensor coperti addirittura Possiamo notare come si può creare questa sorta di pista da ballo Che insomma è molto carina e interessante però ci fa capire molto di più sullo Skull Sensor È importante sottolineare come lo Skull Sensor non senta il mio rumore E se c'è un blocco di lana nel mezzo Mentre se lo facciamo di qua come potete vedere se ne rende conto più che bene Ma andiamo a vedere qualche piccola curiosità e particolarità dello Skull Sensor in generale Ci terrei a mostrarvi come questo blocco non può essere spostato tramite un pistone E ovviamente attivandoli il impulso di redstone non può sollevare il pistone stesso È triste purtroppo vedere però come lo Skull Sensor non riesca a sentire suoni relativi per esempio al Note Block Al Jukebox E anche come ragazzi al semplice grugnire degli animali È importante dire che non sente per esempio anche la campana Volendo si può creare un clock di questo tipo tramite la comunicazione effettiva tra questi due blocchi di Skull Sensor come potete vedere Il ciò vale anche in altezza in questo modo qui Può arrivare ad un massimo ragazzi di 15 di impulso di redstone È anche importante sottolineare che la bellezza di 8 blocchi bastano per far permettere allo Skull Sensor di sentire il nostro movimento Mentre invece al settimo sì È possibile in questo modo creare un sistema automatico di questo tipo per duplicare la TNT Ovviamente alternativa al clock diciamo Ma una delle sue novità più importanti è legata principalmente al suo più che altro legame con il comparatore Dovete sapere sì ragazzi che se lo Skull Sensor attiva un comparatore L'energia di redstone pulserà fino a un livello massimo di 15 Seconda della particolare cosa che accade per far attivare il rilevatore Skull Diciamo che ogni vibrazione ha un particolare livello di impulso di redstone che permette E questo ovviamente lo possiamo andare a indicare seguendo una importante tabella Ma ora nel mondo di Bisunto vi voglio mostrare un'altra cosa Lo Skull Sensor è un blocco molto interessante Ringrazierei il buon bisunto canale che trovate in descrizione Per avermi dato una grandissima mano nell'aver costruito proprio questo mondo adatto con alcuni sistemi particolari Questo ragazzi è un esempio di redstone wireless che possiamo anche vedere e riconoscere dal Minecraft Live 2020 Infatti ragazzi se clicchiamo questo pulsante e attiviamo la trapdoor Che avrà la funzione unica di riprodurre un suono Andremo a vedere che il segnale va come potete vedere fino alla lampada di redstone E la accenderà Proviamo di nuovo Eccola là si è accesa Non so se l'avete vista ragazzi Questo è un esempio di redstone wireless ed è più che altro l'utilità davvero più grande di questo Skull Sensor A detta di Bisunto non è un blocco così tanto utile Questa qui ragazzi è una tabella che ci presenta tutti i valori possibili di impulso di redstone Che vengono rilasciati da uno Skull Sensor seguito da un comparatore Proprio in questo modo Infatti ragazzi questa è la tabella semplicissima che possiamo trovare sul sito Infatti vedete tutte le varie frequenze del caso E mettete in pausa il video se vi serve Ma vi farà vedere tutte le varie intensità di impulso di redstone Che possono partire unicamente dal comparatore Per esempio ragazzi alla frequenza 12 abbiamo Usa il flint and steel Usare l'acciarino Proviamo subito Dovrebbe arrivare un impulso di 12 E lo possiamo vedere dal numerino qui Vediamo un po' Eccolo qua Avete visto bene 12 Proviamo come dice invece la frequenza 5 A saltare qua all'intorno In teoria dovrebbe darci 5 Esatto La potete trovare nel changelog o nel caso in questo video Qua abbiamo dei piccoli circuiti che ci ripropongono alla fin fine la stessa identica cosa Questo leggio con sopra un libro che ci mostra tutte le varie frequenze Ci fa vedere gli vari effetti che subirebbe eventualmente il tutto Tramite uno di queste casualità Per esempio con il passo camminando possiamo camminare accanto allo skull sensor E effettivamente la lampada si attiva In questo caso se mettiamo a 5 lo skull sensor non attiverà più la lampada Perché 5 è impostato con il salto Infatti ragazzi se saltiamo dovrebbe accendersi a breve Ecco fatto Se mettiamo per esempio la frequenza 10 non potremo neanche più saltare Non varrà più perché non servirà per accendere la lampada Servono 5 frequenze in più Ovviamente in questo caso la lampada simula l'avvio del circuito Ma ovviamente a seconda della condizione che più vi interessa Si può ricreare questo circuito che è uguale a tutti questi altri Nello stesso identico modo E far partire il meccanismo a causa A seguito unicamente del succedere di una determinata azione Qua abbiamo una cosa secondo me molto utile Avrete immaginato tutti di che cosa sto parlando ragazzi Questo è un sensore di accensione e spegnimento del portale Il portale si attiverà unicamente quando saremo effettivamente vicini al portale stesso Proviamo un po' ad avvicinarci Eccolo qua ragazzi si è acceso Se stiamo fermi e non accade nulla Fra poco esattamente il circuito perderà potenza L'impulso di redstone diminuirà sempre di più Fin quando lo sarà al minimo E ovviamente tramite l'acqua il portale si va subito Senza nessun ritardo a spegnere Proviamo di nuovo Se andiamo qua vicino e facciamo casino Avremo la possibilità di entrare nel nether E finché non smetteremo di muoversi Sostanzialmente qua il portale rimarrà aperto Una volta che non attiveremo più questa zona Il portale nuovamente andrà a perdere la sua potenza Andrà a spegnersi Qua ragazzi abbiamo una simulazione di farm Con lo skull sensor Anche perché effettivamente rendere lo skull sensor Uno strumento necessario e utile per creare delle farm È risultato da quello che ho capito Abbastanza complicato Ovviamente ricordatevi la parola necessario Tranne che per un'occasione Nelle farm di creeper super caricati Dovete sapere ragazzi Se torniamo al nostro leggio Possiamo andare nella frequenza numero 6 E troviamo wolf shaking Che cosa significa wolf shaking? Praticamente ragazzi Questo accadrà solo e soltanto Quando il lupo sarà bagnato E si andrà a scrollare l'acqua di dosso dal pelo Facendo questo circuito ragazzi Come potete vedere Si potrà andare effettivamente ad attivare Una farm di creeper super caricati È un esempio questo ovviamente Proviamo infatti a vedere se la lampada si attiva Ragazzi andiamo a fare il comando Eccolo qua Il lupo si è bagnato Come potete vedere È diventato perlomeno un pochino più scuro Si è bagnato ripeto Andiamo ad attivare nuovamente il common block Si è clearata la pioggia Il lupo si sciacqua dall'acqua Eccolo qua E ragazzi avremo un'intensità Pari a 6 Del nostro redstone lamp Ovviamente nel caso di una farm Andrebbe ad attivare il pistone Sposterebbe i creeper Insomma farebbe le varie funzioni Della farm Sarà anche carino vedere effettivamente il funzionamento Ma questa ragazzi Quello che vi voglio far passare È che non ha una particolare utilità Questo skull sensor Secondo i redstone Più che altro Ovviamente questo lo dico Soltanto a due giorni Dall'uscita dello snapshot Insomma questo è quanto Purtroppo non sono un redstone Non me ne intendo particolarmente E ho cercato di spiegarvi il tutto Nella maniera più comprensiva possibile Ovviamente mi è risultato complicato Sarà un blocco che continueremo a studiare E riproporre nei minimi dettagli Anche le prossime volte Spero davvero di aver detto tutto Di aver creato un contenuto Perlomeno adatto A quello che onestamente Miravo a fare ecco Detto questo spero che comunque Il video vi sia piaciuto Vi invito ad attivare la frequenza come me Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E commentare Passate anche dalla descrizione Dovete trovare il link al gruppo telegram Al profilo instagram Sì togliola delle live Detto questo ragazzi Da Andernico è tutto Alla prossima Ciao Ciao